Partirà nelle prossime settimane il tracciamento a tappeto dei contagi da coronavirus nelle Marche. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi del presidente Acquaroli, l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ne ha dato conferma, oggi a margine della seduta del Consiglio regionale. Da dicembre partirà lo screening di massa con test antigenici rapidi nelle città con oltre 20.000 abitanti. Sono gratuiti e su base volontaria. Abbiamo partecipato a una gara insieme al Piemonte, spiega Saltamartini, e comprato oltre 2 milioni di tamponi. I dettagli organizzativi verranno esposti in una conferenza stampa giovedì 3 dicembre. L'operazione avverrà grazie alla collaborazione con la Croce Rossa, con i medici pensionati volontari e le cliniche universitarie, con gli studenti di medicina e di scienze infermeristiche. La regione dovrà incontrare anche i sindaci per stabilire gli spazi a disposizione e l'eventuale coinvolgimento della protezione civile comunale. In giunta poi si è discusso dell'accordo già raggiunto il 27 novembre per eseguire i test sierologici rapidi, pungidito, in farmacia. Le parafarmacie invece al momento restano escluse, spiega l'assessore, perché manca un'intesa sia con il Servizio Sanitario Nazionale che con quello regionale. Le parafarmacie non sono neanche collegate con i sistemi di trasmissione dei dati e infine, non essendo annoverate tra le professioni sanitarie, bisogna valutare gli organismi di categoria. Comunque, ha precisato, potranno essere coinvolte nella campagna di screening di massa. Salta Martini ha parlato anche di ritorno delle marche in zona gialla e l'auspicio, ha dichiarato l'assessore, che ha ricordato però il focolaio al Santa Croce di Fano. Abbiamo più di 20 positivi in zona grigia, ha concluso, e speriamo che questi pazienti non si riflettano sulle terapie intensive.